Io non credo che Vicenza abbia problemi di diritti degli omosessuali e non penso che se ci fosse un problema sui diritti legati all'omosessualità il modo migliore sia una carnevalata volgare. Chi si è apertamente schierato contro una nuova edizione del Gay Pride a Vicenza è l'assessore vicentino Elena Donazzan, la lady di Ferro che non le ha mai mandate a dire e che ha risposto alle dichiarazioni del presidente vicentino di Arcigay molto prima del sindaco Francesco Rucco. Se il primo cittadino ha chiesto prima di vedere una richiesta ufficiale ed è mandato la decisione all'intera giunta l'assessore invece ha ribadito il suo no, già incassato dagli organizzatori da parte della regione Veneto di centrodestra appunto. Chiedere il Gay Pride a Vicenza è una provocazione perché tutti sanno che è stata eletta una maggioranza diversa, che ha idee molto chiare per quanto riguarda che cosa è la famiglia, la famiglia naturale, che cosa è il decoro nella città, che è in coerenza politica con la giunta regionale del Veneto che ha negato il Gay Pride a Padova. E queste sono le ragioni della politica. Il sindaco Rucco intanto cerca di arginare le polemiche con l'arte della diplomazia. Chi vincerà? Fratelli d'Italia a Vicenza ha già coniato la sua definizione. Quello del Gay Pride è uno stress test per il sindaco.